Chi guarda le armi come alla soluzione non fa parte del pacifismo e chi parla di pace non può parlare di armamenti e di spese militari. Il diritto internazionale può regolare la questione pacificamente attraverso gli arbitrati di pace. Fomentare la guerra mandando armi non fa altro che distruggerci. Noi vogliamo un futuro per i nostri figli, per il popolo ucraino, per il popolo russo. E' la richiesta di ascoltare la società civile che chiede la pace perché è quello che vogliono le persone, vogliono la gente, vuole la pace. Stiamo parlando solo di armi, di bombe atomiche, siamo in un momento di grande crisi quindi bisogna ritornare al dialogo, alla diplomazia. Grazie 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 Grazie